Questa porra le fa questa guerra? Inquieta, inquieta moltissimo perché si estende, coinvolge tante realtà, tanti contesti, al di là di quell'immagine di nuovo di distruzione, di morte, di civili che devono scappare. I morti del nuovo conflitto e quelli del terremoto. Don Luigi Ciotti ad Arquata, nel cratere del sisma, vive il suo doppio dolore. La frazione di Pescara del Tronto, la notte del 24 agosto 2016, in 48 qui, hanno perso la vita. Prima c'erano case, ora più niente. Che effetto le fa? Tanto dolore, tanto dolore, soprattutto vedere tutti quei volti, quei nomi. Mattone su mattone, ora questo luogo prova a ripartire. Qui verrà ricostruita una parte di Pescara del Tronto, dell'abitato. Adesso pensiamo di adottare questi piani, entro un breve periodo, per fare in modo finalmente di progettare infrastrutture, sottoservizi, perché è arrivato il momento di raccogliere quello che abbiamo seminato in questi anni. Dove l'economia riparte, la criminalità può allungare la sua mano, vietato distrarsi. I giochi criminali, il mondo dell'illegalità, della corruzione, è sempre in agguato. Ricominciare quindi dal noi, come fa Cristina, che è rimasta qui, nonostante tutto. Io sono convinta che ognuno di noi ha un luogo che gli appartiene e questo era il nostro posto.